In Pachima 2015 siamo con l'ingegnere Paolo Ventura di DicoService. Paolo, DicoService non porta un macchinario, ma va a incontrare tanti clienti perché DicoService è capace di offrire soluzioni ad ogni situazione. In effetti il nostro prodotto è la capacità di fare i prodotti dei nostri clienti. Noi ormai da 25 anni offriamo servizi industriali completi alle aziende italiane che hanno bisogno di integrare la propria capacità oppure, e questo è tipico del modello produttivo italiano, addirittura di decentrare completamente la fase industriale. Qui a Pachima abbiamo incontrato tanti amici, tanti clienti, tante aziende con cui abbiamo lavorato che sono note per il loro prodotto, macchine confezionatrici che fanno cose belle, complicate, difficili, ma che in realtà non hanno la capacità di produrle. E danno completamente a fornitori specializzati come noi l'attività di tipo industriale. Dunque, 25 anni di esperienza nel settore e tantissime problematiche affrontate e superate, questo significa una grandissima capacità di innovazione. Io credo che una delle caratteristiche che attirano di più i nostri clienti quando lavorano con noi è proprio il fatto che noi offriamo non soltanto servizi integrati, ma competenze integrate. Noi in questi anni abbiamo lavorato per aziende che facevano macchine per incartare i formaggini piuttosto che per avvolgere panini o fare pacchetti di medicinali o di sigarette. Ecco, in questo modo abbiamo acquisito sensibilità e esperienze che in un'industria che è specializzata in un particolare tipo di prodotto mancano. Insomma, noi riusciamo a integrare queste competenze e offriamo queste esperienze ai nostri clienti. State cercando di offrire molto di più, siete assieme ad altri alla base del progetto For Industry Television, quindi una nuova comunicazione aziendale, intraaziendale, ma soprattutto per tutto il settore. Il modello produttivo che ruota intorno a noi, che vi ho descritto un pochino, funziona benissimo in Emilia-Romagna, che è la nostra regione d'appartenenza. Funziona ed è abbastanza noto in Italia, ma non in tutti i territori. All'estero è difficile riuscire a spiegarlo. Ecco, per noi la For Industry, questa iniziativa, è un modo per cercare di comunicare e far capire, presentare la nostra capacità, la nostra esperienza a clienti nuovi, anche molto lontani, come quelli che soltanto oggi con strumenti come queste Web TV si possono raggiungere. Vi ringraziamo, ringraziamo Paolo. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.